La nostra congregazione è nata a San Servan nel 1839. È stata fondata per Jean Jougan e è stata commossa per vedere la povertà che esisteva in quella epoca in tutta la Francia dovuta alla rivoluzione francese. È trovata un'anziana cieca che stava nella strada e da lì è la radice principale della quale è nata la congregazione. Prima fu un'anziana, poi un'altra, poi un'altra. Il carisma della congregazione è stato sempre questo, prendere cura degli anziani poveri. Attualmente siamo nei cinque continenti, abbiamo 202 case. Noi viviamo essenzialmente della questua, che la nostra madre ha voluto sempre che avessimo questa fiducia nella provvidenza, dove gli anziani che vengono hanno le pensioni minime. Non riusciamo ad andare avanti e affrontare tutte le altre spese. Due suore vanno in questo e c'è gente che si abbonano, dà un abbonamento ogni mese, ogni sei mesi e ci aiutano. Altri invece andiamo porta a porta o passiamo per i negozi. A Bologna siamo arrivate nel 1895, in una prima sede nella via d'Aselio. Poi siamo state trasferite qui a via Emilia Ponente 4, dove siamo attualmente, e tanti ci conoscono come l'Istituto di San Giuseppe. I bolognesi sempre sono stati molto sensibili alla nostra opera, sempre abbiamo sentito il loro appoggio e il loro aiuto, dello quale ringraziamo. Da cinque anni ho chiesto al Cardinale Arcivescovo di lasciare la parrocchia di San Carlo, a Bologna, in via del porto, per venire ad assistere gli anziani di questa casa. Il Cardinale è stato felicissimo di accontentarmi perché mi diceva tu ti affido questi anziani perché tu devi portarli tutti in paradiso, perché sono nell'ultima tappa della loro vita e quindi nessuno ci deve sfuggire, mi raccomando. Allora io ho promesso questo. Difatti da quando sono qui nessun anziano è morto senza i sacramenti, senza l'assistenza spirituale, senza oltre l'assistenza anche materiale delle suore che si sono prodigate giorni e notti per la loro assistenza e per la loro buona morte, per dire così.